Musica Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video Io sono Xyuder e ragazzi anche oggi un bel po' di news per quello che riguarda le ultime 24 ore di Fortnite L'avete presa la Galaxy? E dai, ieri era l'ultimo giorno per partecipare alla Galaxy Cup Spero che molti di voi l'abbiano ottenuta, vi ricordo arriva nello shop per tutti il 31 Nel video di oggi però parleremo dell'acqua che si abbasserà fra 30 minuti con delle teorie davvero super interessanti Vedremo anche un nuovo, non voglio spoilerarvi, un nuovo allacciamento della storyline e tante altre cose Prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano con il mio codice creator Xyuderone Grazie mille ragazzi per il vostro sostegno, mi raccomando non dimenticatevi di iscrivervi ai miei canali E soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica con i miei video news E allora andiamo direttamente al primo argomento di oggi e non poteva che essere ciò che accadrà tra 30 minuti Ragazzi alle 9 di oggi avremo un nuovo abbassamento del livello dell'acqua Ne abbiamo già parlato ieri quindi chi ha guardato ha già visto le cose Non sono qui a dirvi cosa riemerge e cosa non riemerge Ma si vocifera anche di una cosa interessante Allora nei file di gioco questo abbassamento dell'acqua è chiamato WL3 Water level 3 Siamo partiti da water level 7 Quindi stiamo andando 7, 6, 5, 4 e via dicendo Questo vuol dire che il water level 2 sembrerebbe che arriverà il 3 agosto Quindi stanno cominciando a diminuire i giorni che passano tra un abbassamento e un altro abbassamento E con il water level 2 barra il water level 1 Si dovrebbe entrare anche nella settimana dell'ultima patch di questa season Quindi la patch 13.40 Indicativamente secondo me stiamo parlando di un periodo che varia dall'8 agosto al 15 agosto Perché poi lasceranno le ultime due settimane Se tutto dovesse andare come pensiamo e il 27 agosto terminare la season Allacciandoci alla patch 13.40 Potrebbe essere proprio quella corretta Dove tutta la mappa emersa dà la possibilità di guidare in tutte le strade i veicoli Quindi incrociamo le dita ragazzi Diciamo che i leakers sono molto fiduciosi Io insieme a loro e quindi speriamo in bene E andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi Perché ieri pomeriggio è stata aggiunta finalmente in game E ve la faccio vedere in uno spezzone video La tanica Come si dice Interagibile con il personaggio Nel senso prima era solamente presente il disegno Quindi l'icona della tanica di benzina Questo invece è proprio il modello 3D Vi ricordo la tanica di benzina Sarà importantissima Se vogliamo appunto caricare del carburante extra Occuperà uno slot del nostro inventario E vi faccio vedere ragazzi Un brevissimo e velocissimo spezzone video Guardate la si vede proprio immediatamente Eccola lì ragazzi Lasciate perdere che si è scritto chug splash Non è importante quello Come vedete Lui la terrà in mano così Secondo me In game Non la terrà in mano così Perché ovviamente Non ha senso Come vedete Sarà di rarità rara Ma questo poco importa Anche se sembra che non sia così poi Facile trovarla E appunto Servirà per poter immagazzinare Un bel po' Di carburante extra Per appunto Utilizzare di più I nostri veicoli Quindi continuano Gli aggiornamenti Credo siamo arrivati Sul rush finale E andiamo avanti a parlare Del prossimo Argomento di oggi Perché ragazzi Abbiamo finalmente Una lista ufficiale Di tutti i problemi Che verranno fixati Nella patch 13.40 Se andiamo nella General top issues Quindi problemi generali Appare Il Il cursore Del mouse Per i giocatori Di pc Che invece Giocano con il controller Quindi se vi capita Questo problema Non vi preoccupate Verrà fixato Con la prossima patch Atterrare A frenzy farm Oppure Allo yacht E finire nella top 25 Quindi una delle missioni Delle settimane precedenti Non viene Calcolata Né in duo Né in squad Anche lì Verrà sistemata Alla peggio La fate in singolo E non ci pensate più Un altro Molto importante Il grande problema Che c'è Con l'xp bars Quindi la Barra dei punti Esperienza Che a volte Segnala erroneamente Un livello in più Quando si completa Magari una sfida O si fa Una punch card Quindi un Un obiettivo Delle schede punti Anche se Vi dà La ricompensa Poi nella partita successiva Tornate A livello precedente Quindi fixeranno Anche questo problema E c'è anche un problema Per quanto riguarda Il drop Della chug Da parte di un compagno Di squadra Se la droppa In acqua Sembra che sia impossibile Prenderla Consiglio di xuder Se c'è un problema Del genere Pigliate una canna da pesca Pescatela O una fiocina Questo dovrebbe risolvere Il problema Senza appunto Preoccuparvi Ce ne sono altri Invece che sono In lavorazione Ci sono dei problemi Ancora come vedete Lock input Method as mouse Quindi utilizzare Un mouse Come input A volte Non ti diventa Non te lo fa utilizzare Quindi problemi Con il mouse Uno dei problemi Più importanti Che io ho già fatto notare È proprio il primo Della seconda colonna Non si è capito bene Perché Ma dall'inizio Di questa Da un paio di patch 3-4 patch Quando tu Punti un marker Stai camminando Metti la corso automatica Apri la minimappa Punti un marker Ti si ferma il personaggio Questa cosa non era mai successa Finalmente Se ne sono accorti E la fixeranno Perché Non si può assolutamente Giocare a me Personalmente Da un fastidio incredibile Problemi anche per i giocatori Di ps4 Ai quali non vengono Salvati i replay E anche problemi Per xp gain For From phrased items Cioè Quando voi Consumate Degli oggetti Che potrebbero essere Pannocchie Funghi Mele Quello che è Non vi dà I punti esperienza Quindi fixeranno Anche quello E anche altri problemi Per la modalità creativa Dove ci sono Dei reset Nelle isole Personalizzate Oppure problemi Con alcune strutture Quindi ragazzi Tanti lavori Tanti lavori Come state vedendo In programma Speriamo ovviamente Che vengano fixati tutti Andiamo avanti Con il prossimo Argomento di oggi Perché voglio tornare Ancora un secondo Sul problema Dei regali Del terzo compleanno Di fortnite Allora Andando a cercare Su google Effettivamente Ci viene detto Che il 17 Settembre Cioè il Il 26 settembre Del 2017 È La data Ufficiale Di release Del battle Royale Allora Vero Perché prima C'era la versione Anticipata Luglio 2017 Settembre 2017 Ma quanto ne so io Negli anni precedenti Noi a luglio Abbiamo sempre festeggiato Il compleanno Di fortnite Questo però Potrebbe anche essere In realtà Un fattore positivo Perché vorrebbe dire Che sarà Quella La settimana Dove metteranno I regali di compleanno A me sembra Una castroneria Incredibile Perché vuol dire Andare nella season 4 Season 4 Che sarebbe iniziata Da circa un mesetto Quindi stabilizzato Il gameplay Dei giocatori Buttagli dentro Il compleanno Sì ci sta Dovrebbero anche Darci dei regali Abbiamo trovato Il backpack Della torta Non sono molto convinto Di questa googlata Però ragazzi Incrociamo le dita Potrebbero arrivare Quest'anno A fine settembre I regali E andiamo avanti Con l'ultimo Argomento di oggi Perché è ancora Un argomento Molto importante In quanto ci sono Delle teorie Super interessanti Che dovrebbero Allacciare Quello che non c'entra Niente in questo momento Nel battle royale Ovvero sia In una season Dove c'è L'acqua Come elemento principale Gli squali L'abbassamento Del livello Dell'acqua Devono arrivare I veicoli Non c'entra assolutamente Nulla C'è questa astronave L'abbiamo vista tutti L'astronave antica Che avrà anche Delle sfide E parecchie sfide Che sono dedicate Divideranno Ci daranno Punti esperienza Ma voglio far vedere Innanzitutto Un'animazione Ragazzi Per chi va sotto l'acqua Innanzitutto Oggi Alle 9 Dovremmo poterla Finalmente vedere Dovrebbe proprio Emergere Dietro scogliere Ma come vedete Già nell'immagine Dentro C'è un astronauta E questo astronauta Ragazzi In realtà Non è morto Non è sofferente Vedete che respira Questa è l'animazione Presente nei file di gioco Quindi Sta dormendo Sta aspettando Sta respirando Non lo sappiamo Ma di certo Non è morto Perché c'è questa astronave Non lo sappiamo Ma c'è una teoria Veramente interessante Che collegherebbe L'astronave Ha i predoni Che sono un'altra Di quelle cose Che non c'entrano Assolutamente nulla Con questa season Perché non ha senso Che dal niente Vengono giù i meteoriti Con questo gruppo Di simpaticoni Che ti laserano Peggio di Mongrel E Benjifish Messi assieme Allora Si pensa Che in realtà I predoni Quando scendono Iniziano a correre Stanno cercando I visitatori Che sono arrivati Con la navicella E non dico Visitatori A caso Perché potrebbe Essere Siona Quindi La skin Del pass battaglia Che ha gli stessi colori Della navicella E che sappiamo Essere Venuta Dallo spazio Potrebbe essere Correlazionata Ad uno dei sette E quindi Noi sappiamo Che dalla season 3 Del capitolo 1 Di fortnite Con l'evento Dove apparve Il meteorite Si schiantò Tutto quello che è successo Poi dalla season 4 Season 5 In avanti Quando fortnite Parla di spazio Di solito Ci allacciamo Alla grande storia In principale Che è quella Appunto Dei sette Insomma ragazzi Staremo a vedere Anche qua Io per oggi Tutte le news Ve le ho dette Vi ringrazio tantissimo Per avere guardato Questo video Mi raccomando Non dimenticate Di lasciare Un bel pollicione In su Iscrivetevi Ai miei canali E a me Mi trovate Proprio adesso In live su twitch Ciao Ciao